A questo punto del nostro percorso A questo punto del nostro percorso possiamo inoltrarci insieme in quelle immagini di Dio che noi abbiamo definito negative, malzane, che possono essere cioè immagini di Dio che avvelenano, avvelenano il nostro modo di pensare, non solo Dio ma anche noi stessi, avvelenano la visione che possiamo avere di Dio, di noi stessi e della vita. Avvelenano quindi il nostro cammino spirituale ma così facendo rischiano di inquinare anche la nostra serenità umana o addirittura psichica. Sono quelle immagini che in buona sostanza avvelenano il nostro rapporto con Dio perché ci danno di Lui un'immagine sbagliata. Quali sono le più frequenti immagini di Dio, quelle che ricorrono di più nel nostro inconscio, nella nostra, in quella che abbiamo definito, la nostra immaginazione e purtroppo dobbiamo dirlo talvolta anche nel nostro linguaggio, nella nostra preghiera, nella nostra devozione, nel nostro stile di essere chiesa, nel nostro modo di essere chiesa. Io nel libro Non è quel che credi, liberarsi dalle false immagini di Dio, ho individuato cinque di queste immagini negative, rigide, oppressive, talvolta soffocanti, capaci di generare una religiosità fondata sulla paura o sul senso di colpa e di provocare nelle persone che le coltivano e talvolta le nutrono, anche involontariamente, una storia ferita. Proviamo a vedere oggi la prima di queste cinque immagini negative di Dio. La prima immagine è quella che ho chiamato del Dio Tappabuchi, è un nome, una parola attribuita a Dio, quella di Tappabuchi, che proviene, forse qualcuno di voi qualche volta l'avrà sentita, dalla riflessione teologica di Bonhoeffer, un pastore protestante, un pastore luterano, che ci ha lasciato una grande opera, Resistenza e resa, e altri scritti, una grande riflessione teologica portata avanti in un momento drammatico della storia del nostro Novecento, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso Bonhoeffer viene incarcerato in un campo di concentramento ed è lì che matura la parte, potremmo dire, più alta della sua riflessione, il vertice della sua riflessione teologica, proprio dal carcere, egli scrive delle lettere che vengono raccolte poi sotto questo titolo, Resistenza e Resa, e in esse a un certo punto ci parla anche del Dio Tappabuchi. E Bonhoeffer ne parla così, un Dio che è invocato come una soluzione a problemi, una soluzione fittizia, a dei problemi che sembrano insolubili. Cioè, dinnanzi alla debolezza umana o ai limiti della realtà, piuttosto che farsi delle domande, piuttosto che approfondire quelle realtà per cogliere una sfida, piuttosto che affidarsi a chi quelle realtà forse può, se non spiegarle, almeno aiutarci a interpretarle, come la scienza e altre discipline, ecco che si invoca Dio perché venga in qualche modo a toppare il buco che si è creato. Un Dio che è invocato per spiegarci alcune cose della realtà. E dice Bonhoeffer questo Dio non è più moderno, non nel senso che è un Dio antico, nel senso che non si potrà più integrare con la modernità dell'uomo, perché nell'epoca moderna le grandi scoperte scientifiche, il grande progresso tecnologico, anche noi siamo adesso per esempio collegati, connessi attraverso degli strumenti tecnologici, cosa che fino a qualche anno fa non sarebbe stata possibile. Ecco tutto questo grande sviluppo moderno arriva pian piano a spiegare le cose della realtà. E non abbiamo più bisogno di un Dio che ci dica eventualmente perché viene un terremoto o perché viene un'epidemia come quella che abbiamo vissuto di recente. Dice Bonhoeffer io vorrei parlare di Dio non ai limiti della vita, cioè quando ho finito tutte le altre possibilità e tutti gli altri ragionamenti e allora invoco Dio per spiegarmi la realtà. Ho sentito anche di recente e non dall'ultimo arrivato che forse Roma non ha avuto gli stessi contagi che ha avuto Milano durante la pandemia perché essendo la città del Papa, cristiana per eccellenza, forse è stata protetta da Dio. Ecco questa è un'interpretazione falsa di Dio e anche della nostra fede. Ecco io non vorrei parlare di Dio ai limiti ma al centro della vita, non nelle debolezze ma nella forza. Dio non è un tappabuchi, Dio non deve essere riconosciuto solo al limite delle nostre possibilità ma al centro della vita perché Egli è il centro della vita e non è venuto apposta per risolvere alcune questioni, come talvolta diciamo nel nostro linguaggio. Questo è Bonhoeffer. Cerco di entrare ancora più profondamente, ancora più da vicino nell'immagine del Dio tappabuchi. Il Dio tappabuchi è un Dio ideale, un Dio ideale rispetto al quale noi proiettiamo i nostri desideri e i nostri bisogni. Quando la nostra vita diventa per certi versi insopportabile e quando ci sentiamo appesantiti non solo dai problemi ma anche da piccole o grandi scelte che dobbiamo compiere è molto comodo rifugiarsi in un Dio che dall'alto mi risolve i problemi. Faccio sempre questo esempio un po' banale ma che rende almeno l'idea agli studenti quando dico voi fate bene a pregare prima di sostenere un esame tuttavia se non studierete non sarà Dio dall'alto a tappare il buco e a risolvere il problema e quindi a passare l'esame. Ecco, in questo senso Dio è colui che viene a tappare i buchi che io non sono in grado di coprire da solo e se ho questa immagine di Dio che cos'è? Qual è la mia spiritualità? La mia spiritualità non mi serve per affrontare con coraggio e con responsabilità le sfide della vita ma al contrario è una fuga, è una scorciatoia, è un modo per fuggire le questioni più complesse della mia vita, è un comodo rifugio che mi rende passivo. Chi vive, secondo questa immagine di Dio, ha una ricerca spirituale ansiogena dove anche la preghiera rischia di diventare un rito magico. Io intervengo Dio perché se prego Lui interviene, io invoco Dio perché se prego Lui interviene dove la mia vita ha dei buchi, ha delle falle, Lui viene a tappare il buco. E alcune persone mascherano dunque dietro questo atteggiamento di falsa spiritualità la loro incapacità o la loro pigrizia nell'assumersi in prima persona e da persone adulte i rischi e le responsabilità della vita. Non ci penso io, prego e così Dio mi protegge o mi aiuta o mi spiana la strada o mi spiega le cose. Generalmente le persone che interiorizzano questa immagine di Dio hanno una bassa autostima, hanno anche una certa insicurezza, poca fiducia in se stessi, poca fiducia nella propria capacità di affrontare da soli la vita. Dio ci vuole figli adulti, ci ha dato l'intelligenza, la libertà, i talenti, i doni, le capacità, le cose della vita quotidiana sono affidate a noi, siamo noi che dobbiamo pensare, discernere, scegliere e agire. Lui ci sta accanto, ci orienta, ci illumina con la luce dello spirito, ma le scelte sono nostre. Quando invece invochiamo Dio perché scelga e agisca Lui al posto nostro, perché venga a tappare i nostri buchi, può succedere che prima o poi Dio, questo o quell'altro problema, non me lo risolve, anche se io ho pregato giorno e notte, e allora l'immagine del tappabuchi si frantuma e la delusione può essere così grande da farmi abbandonare anche la fede. Io non credo più perché in quell'occasione l'ho pregato ma non mi ha ascoltato. Ma lì ci sarebbe da chiedere, sei sicuro che in quell'occasione avrebbe dovuto agire Dio con un miracolo dall'alto e non avresti tu dovuto fare un'altra scelta? Sei sicuro che Dio non abbia agito, pur dentro cose che tu giudichi negative? Ecco, credere in Dio significa credere che la mia storia è saldamente nelle mani di un Dio buono, misericordioso, provvidente, che ha cura di me. Tuttavia non significa fuggire dalle proprie responsabilità, ma cercare di capire qual è la strada che Dio mi indica perché possa essere io ad affrontare le situazioni del mio cammino. Nella sua predicazione Gesù fa spesso riferimento al fatto che dall'amore del Padre noi abbiamo ricevuto talenti e doni. Questi ci sono affidati perché noi li facciamo moltiplicare. La vigna della nostra vita è del Signore, ma è affidata a noi. Ecco, l'immagine di Dio come tappabuchi rischia di farci diventare delle persone timorose, deboli, incapaci di affrontare la vita, mentre invece la fede cristiana afferma che Dio è sì, certo, sempre con noi, ma non per risolverci magicamente i problemi dall'alto, ma per darci una forza che ci fa interpretare in profondità il mistero della vita e ci fa affrontare tutti i problemi annessi alla vita, tutte le sfide legate alla vita. Un Dio che non vuole essere il nostro tappabuchi, ma è il nostro compagno di viaggio. Una fede che non vuole essere una fede magica in un Dio che dall'alto mi risolve i problemi, ma che vuole essere luce sul mio cammino perché io possa vivere in prima persona l'avventura affascinante della mia vita.